Hi guys, welcome back to my lesson, ciao a tutti e bentornati alle mie lezioni d'inglese. Nel video di oggi vorrei proporvi altri 5 libri da leggere, perché finora ho proposto dei libri per coloro che hanno un livello d'inglese base, per coloro che hanno un livello intermedio e giustamente non potevano mancare all'appello anche le persone che hanno un livello d'inglese avanzato, preavanzato. E magari voi vi starete chiedendo, scusa ma se uno ha un livello d'inglese avanzato o preavanzato, ha bisogno di sapere che libri leggere? No, in effetti se uno ha già un buon livello d'inglese può leggere il libro che preferisce, tuttavia secondo me ci sono dei libri che non sono troppo 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 complicati, come leggere magari un manuale o un libro magari di un settore particolare, sono dei romanzi molto interessanti anche per la loro trama e possono essere d'aiuto per migliorare l'inglese ulteriormente. Come sempre, prima di cominciare ti invito a venire su Instagram alla pagina sculto you underscore milan oppure su Facebook, ti lascio tutti i riferimenti in descrizione a questo video, oppure se vuoi dare una svolta al tuo inglese ti lascio qui i miei video corsi di inglese base, intermedio e anche business english. Detto questo, direi che posso presentarti i cinque libri di livello pre-advanced e avanzato che ho selezionato con le loro schede, le descrizioni, così ti faccio capire bene come mai secondo me questi libri sono perfetti per coloro che direi hanno un livello di inglese C1 che vuole andare verso il C2. Partirei dal primo libro, un libro molto carino, eccolo qua, in italiano la traduzione è Il curioso caso del cane ucciso a mezzanotte, sembra uno scioglilingua, e in inglese è The Curious Incident of the Dog in the Night Time. È un libro veramente molto carino, narrato in prima persona da un ragazzo affetto dalla sindrome di Asperger, quindi di una genialità incredibile, con anche delle foto, delle immagini, piuttosto che magari ogni tanto ci sono delle cose particolari nel layout proprio del libro. Questa cosa ti accompagna proprio nella mente del protagonista ed è una cosa incredibile. E secondo me è un libro perfetto per coloro che hanno un livello di inglese pre-avanzato per questo motivo. The Curious Incident of the Dog in the Night Time, di Mark Haddon, del Regno Unito, un libro relativamente recente, del 2003, livello di inglese appunto C1. È il racconto in prima persona con una sintassi forbita, come è tipica, delle persone con sindrome Asperger. Il libro ha una trama particolare che potrebbe renderne difficile la comprensione per il modo in cui è raccontata. Tuttavia è molto divertente e sembrerà davvero di essere nella mente del protagonista. E proseguendo con i libri di livello pre-avanzato non poteva mancare all'appello il magico Harry Potter. Harry Potter in inglese, British English. Diciamo questo è uno dei volumi di Harry Potter, sapete benissimo che in realtà ci sono diversi volumi, anche abbastanza impegnativi e quindi vi consiglio eventualmente, se non l'aveste già fatto, di leggerli in italiano e se poi volete provare a leggerli in inglese. Io sinceramente, a differenza di alcuni siti internet che propongono questa lettura per un livello intermedio base, l'ho trovato abbastanza impegnativo, anche perché tante parole sono un po' inventate, è un mondo magico, quindi ci sono dei vocaboli che magari non esisterebbero in italiano, neanche non c'è una traduzione vera e propria, ma sono delle cose inventate dalla geniale autrice. E quindi, secondo me, questo libro, così come gli altri della serie di Harry Potter, secondo me, sì, sono perfetti per coloro che hanno un livello di inglese preavanzato, avanzato. Andiamo a leggere nel particolare la scheda di questo libro che vi consiglio della serie di Harry Potter. Harry Potter, J.K. Rowling, dal Regno Unito. Il volume che vi ho mostrato poco fa è del 2012 ed è di un livello di inglese C1, direi, perché benché faccia parte della letteratura per ragazzi, questo libro presenta vocaboli e dialoghi particolari, talvolta vocaboli inventati, poiché inerenti al mondo della magia. Dialoghi però sono dinamici e con una sintassi contemporanea e descrizioni dettagliate in terza persona. Molti verbi sono nei tempi passati. E ora proseguiamo, cambiamo completamente genere e andiamo da lei, Sophie Kinsella, che ha scritto una marea di libri con questa shopaholic girl, con una ragazza che è affezionata e dipendente dallo shopping, che compie tantissime avventure e quindi è un libro perfetto da leggere, soprattutto magari in estate, nel relax e nel tempo libero. È un libro molto leggero ma molto molto divertente. Questo in particolare l'ho trovato molto fresco perché poi parla di una storia d'amore, mentre la protagonista di Sophie Kinsella vive diverse avventure. Questo in particolare si chiama The Shopaholic Ties the Knot, che in inglese questa espressione significa la ragazza appunto dipendente dallo shopping si sposa, come si può vedere dal vestito da sposa. E quindi questo libro secondo me è perfetto per coloro che abbiano un livello di inglese preavanzato. Direi di andare a leggere insieme la scheda del libro. Shopaholic Ties the Knot di Sophie Kinsella del Regno Unito e questo volume in particolare del 2002. Livello di inglese direi C1. I dialoghi sono leggeri e scorrevoli, con trama semplice e quindi facili da seguire. Mod di dire ed espressioni colloquiali con un lessico moderno che arricchisce il vocabolario di chi legge il romanzo. Il prossimo libro che vi consiglio, ce l'avevo già, è molto molto interessante. Il titolo è Everything is Illuminated, da cui hanno tratto anche un bellissimo film che si chiama Ogni Cosa Illuminata. Infatti la copertina ha Elijah Wood, che è il protagonista, che è l'attore molto famoso che ha fatto anche Spider-Man per esempio. Ed è un libro davvero interessante che parla di una storia molto curiosa, molto anche toccante se vogliamo. Siamo in Ucraina e un giovane uomo cerca di ritrovare una donna che ha salvato suo nonno dai campi di concentramento. Quindi è una storia molto toccante, dove proprio siamo nella vita del protagonista. Comunque la trama completa la trovate sempre in descrizione a questo video. E ora vorrei dirvi secondo me perché è perfetto, perché ha un livello di inglese preavanzato. Everything is Illuminated, di Jonathan Safran Foer, degli Stati Uniti d'America. L'anno 2002, questo libro è perfetto per coloro che hanno un livello di inglese C1, con dialoghi brevi e veloci, che si susseguono, e di monologhe che sono molto introspettivi e quindi altrettanto veloci, seguendo appunto il flusso di pensiero del protagonista. Ricorrono molti verbi al passato remoto nel racconto, con passaggi di scena repentini, molti frase verbs e verbi irregolari al simple past. Concluderei questa serie di libri con un libro del vincitore del premio Nobel per la letteratura, sto parlando di William Golding, e il libro si intitola Lord of the Flies, il signore delle mosche. È un libro che ho trovato consigliato in alcuni blog di lingue, come per coloro che hanno un livello di inglese pre-intermediate e intermediate, ma quando poi mi sono messa a leggerlo, un po', a sfogliarlo per consigliarvelo, l'ho trovato veramente difficile. Difficile nel senso che ha tantissimi modi di dire, tantissime espressioni, ovviamente raccontato tutto il passato remoto, quindi questo complica ulteriormente la narrazione, perché tutti i verbi sono il passato remoto, con dei modi di dire, dei frase verbs, e quindi ho trovato sinceramente che questo libro è perfetto per coloro che veramente hanno un livello di inglese C1, ma che tende al C2. La trama è davvero molto curiosa, molto interessante, vi consiglio di leggere la descrizione a questo video, perché passerei direttamente a dirvi come mai, secondo me, questo libro in particolare è più indicato a coloro che hanno un livello di inglese di un pieno quasi avanzato. Lord of the Flies di William Goldwyn, Regno Unito, vincitore del premio Nobel per la letteratura. Questo romanzo è del 1954, livello di inglese C1-C2, descrizioni molto dettagliate, racconto ambientato nel passato, con verbi praticamente solo al simple past, al past perfect, al past continuous, con molti frase verbs. Il lessico e la sintassi sono molto elaborati. E quindi ecco qui i libri che secondo me sono perfetti per coloro che hanno un livello di inglese pre-advanced, pre-avanzato, e che vogliono veramente mettersi alla prova con qualcosa di difficile, ma non troppo complicato. Altrimenti, perché no, se avete un livello di inglese avanzato, provate anche a comprare delle riviste in inglese, più che riviste di quotidiani in inglese che si trovano anche nelle dicole, anche le più piccole, magari le testate giornalistiche principali, provare magari con dei piccoli articoli e mettersi un pochettino alla prova anche con degli articoli di giornale, che non sono semplici, ma proprio per questo ci stimolano a imparare qualcosa di nuovo. E ribadisco il mio consiglio per coloro che leggano un libro in inglese, non fermatevi a cercare tutte, tutte, tutte le parole che non conoscete, perché sennò non ve la cavate più. Deve essere anche un piacere la lettura. Se c'è qualche parola che proprio non capite, cercatela. Se vedete che il libro è troppo complicato per il vostro livello di inglese, magari provate a vedere i libri che ho consigliato per il livello intermedio, magari cominciato da lì e piano piano potete arrivare a questi come, diciamo, traguardo conclusivo del vostro percorso di apprendimento della lingua inglese. Per questo video è tutto. Vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di lasciare un mi piace se questo video vi è piaciuto, altrimenti vi aspetto su Instagram, alla pagina Ascolto You Underscore Milan, oppure su Facebook, su Telegram, insomma, ci sono tantissimi modi per rimanere in contatto con me e se veramente volete dare una svolta al vostro inglese, vi lascio ancora una volta qui sopra da cliccare i miei video corsi di inglese di livello base, intermedio e anche business. Per questo video è tutto, spero che questi consigli vi siano piaciuti. Se avete altri libri da consigliarci, fatelo anche voi, scriveteci nei commenti magari qualche titolo che può essere utile anche ad altre persone che abbiano un livello di inglese preavanzato, avanzato. Vi aspetto come sempre su Instagram, alla pagina Ascolto You Underscore Milan. Se ancora non l'avete fatto, vi chiedete di iscrivervi a questo canale di YouTube, di attivare la campanellina per vedere i prossimi video sempre in tempo reale, altrimenti ci sono anche su Facebook, su Telegram e ci sono soprattutto sui miei video corsi completi di inglese per dare una svolta alla vostra conoscenza linguistica. Ve li metto qui, li trovate di livello base, intermedio B2 fino anche al business English. Quindi davvero è un percorso completo che potete fare per dare una svolta al vostro inglese. Che dire, non mi resta che fare altro che ringraziarvi per la vostra attenzione e quindi in inglese Thank you very much for watching and have a nice day. Bye!